Continua la lotta a salvezza per Sant'Arcangelo e Ravenna nel girone B di Serie C. I clementini di Cavasin partono forte contro la corazzata Padova di Bisoli e già dopo nemmeno un minuto Piccioni mette in difficoltà Bindi che si rifugia in corner. A seguire è Struccali a mettere cattivi pensieri biancorossi, nulla di fatto. Il meritato vantaggio arriva dalla bandierina, il colpo di testa di Sirignano al diciannovesimo è vincente. Dura poco però perché Pulzetti dal limite indovina il bersaglio e dopo 4 giri di lancette il risultato è di nuovo in parità. Il Padova prende le misure e sale in cattedra nella ripresa trovando il sorpasso firmato dall'incornata di Capello. Il divario poi aumenta sul 3-1 definitivo al 73esimo che vale la doppietta proprio a Capello. Se il Sant'Arcangelo ha retto un tempo, al Ravenna al Benelli contro il Fano non bastano 60 minuti di buon gioco perché al gol di Ronchi nel recupero di primo tempo segue una coccente disfatta. Il difensore è abile ad incassare in rete incaduta una palla vagante ma la ripresa appunto è un incubo. Il match cambia al 60esimo quando Maestirello non viene concesso un penalty e sul capovolgimento di fronte Venturini viene ammonito per la seconda volta tra le forti proteste dei pardoni di casa. Gli uomini di Antonioli in 10 subiscono il pari dopo il super intervento di Venturi su Fioretti per opera di Germinale all'81esimo. Cala il sipario con l'autorete da paperissima sprint di Gerardi che si trova al posto sbagliato nel momento sbagliato.